Che c'è? Chi mi va andare a chiedere per chiedere il miracolo da crescere? Sei scena pazzo? E' convinto proprio, perchè è deciso una persona sempre faticata, onesta, tutte cose non può essere che mi hanno mandato questo castigo a me e aspetta un miracolo da crescere, non è? Eh beh, chi l'ha aspetta un miracolo? A te che fassiserà? Tu sei più scemese, vabbè un miracolo da crescere, da crescere e perchè i tuoi miracoli che stai cì non ci vedeva e poi ci aveva visto però lui ci getta nè non camminava e poi camminava, mi ha cosciuto nè e mai visti qualcuno che non teneva una cosa e lei è cresciuta? Eh, ma chi? Proprio perchè il miracolo è così difficile si sta concentrando, perchè il miracolo è difficile, è più difficile Mastati, il miracolo è difficile, perchè se è un miracolo è difficile io devo un miracolo a fare i cento punti e i cinquanta punti sta giocando a... cioè, se è un miracolo è un miracolo un miracolo è uguale a tutti perchè allora la gente quando succede un miracolo c'erano i complimenti una cosa che succede è che è un miracolo e tutti quanti a sceglio c'è un miracolo e mai il sa uno che succede una cosa c'è un miracolo no perchè è uno miracolo di cincuantesa punti non, non ci sta un miracolo, un miracolo è un miracolo un miracolo, un miracolo che è buono e chi invece lo stai scegliere, un miracolo la cittadine no 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 esistono miracolo miracolo e un miracolo ma se gli sarchi sono tutti a fornare mi dice miracolo 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 e un miracolo solamente mi dice raccino meglio di me miracolo 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 miracolo